benvenuti nei podcast di intesa san paolo on air un luogo dove vengono condivise idee voci e soprattutto storie buon ascolto buonasera allora la democrazia la democrazia l'abbiamo imparato tutti a scuola è una parola greca e l'hanno inventata i greci a essere precisi è una parola ateniese demos è il popolo kratos è il potere demos è il popolo nel greco che si parlava ad atene perché per esempio già a sparta dicevano damos e se fossero stati gli spartani a inventare la democrazia noi le chiameremo la democrazia invece gli spartani avevano altre idee su come si governa una società e la democrazia l'hanno applicata diverse città greche ma più di tutti la più importante di tutte era era atene le forme di governo che i greci conoscevano erano tante e non c'era nessun consenso preciso su quale fosse migliore anzi c'era uno scontro politico continuo in ogni città su quale fosse la forma di governo migliore governa uno solo che naturalmente ha un consenso uno che si impone non andiamo a vedere troppo se usa anche la forza però in realtà in realtà rappresenta la cittadinanza che si riconosce in lui questa cosa i greci la chiamavano la tirannide e i professori a scuola si sono sempre preoccupati di dire attenzione perché questa parola non ha per loro quel senso negativo che ha per noi per noi tiranno automaticamente è un termine che ha un significato negativo ma è una cosa che verrà col tempo per i greci non era così era un termine tecnico in quella città lì hanno scelto uno e comanda lui anche ad atene prima della democrazia c'era stato un tiranno pisistrato e la tirannide di pisistrato è ricordata nella storia atenese come una fase positiva tanti altri greci preferivano la tirannide in tante specialmente nelle colonie in sicilia in asia minore tante città greche erano governate da tiranni e se ne trovavano benissimo e poi c'era c'era l'altra possibilità che comandano non uno solo ma neanche tutti che comandano in pochi l'oligarchia dar che appunto governare comandare oligos poco in pochi chi ha i migliori naturalmente i migliori sono quelli che governano sono i più preparati sono i più colti sono i più intelligenti sono quelli che sanno cosa bisogna fare e quindi governano in pochi e poi e poi invece se comandano tutti allora è il governo del popolo la democrazia però attenzione a queste alla radice di queste parole non voglio farla troppo complicata però badateci quando si dice oligarchia la parola archè vuol dire governare quando si dice democrazia non vuol dire governare vuol dire comandare con la forza ecco questo è loro hanno la sensazione che quando il popolo che comanda è una forza schiacciante che come dire distrugge chi non è d'accordo effettivamente la democrazia nelle città greche in cui si realizza è una forza schiacciante ed è l'unica democrazia che sia mai esistita che funzionasse davvero in quel modo lì in cui per usare uno slogan di oggi uno vale uno davvero voi sapete che noi oggi abbiamo una democrazia rappresentativa cioè certo votiamo e leggiamo quelli che poi decidono e fondamentalmente abbiamo il potere dopo quattro anni quando decidiamo che hanno governato malissimo di mandarli tutti a casa e mandarne degli altri ma la democrazia ateniese non è quella roba lì la democrazia ateniese è un'altra cosa la democrazia ateniese è che qualunque decisione importante beh c'è una collina ad atene molto spaziosa ci sta un sacco di gente tutti tutti i maschi adulti della città ma tanto non vengono mai tutti ma comunque comunque ce ne stanno tantissimi e quando bisogna decidere qualche cosa e beh tutti vanno lì tutti quelli che vogliono andare vanno lì sulla collina vanno lì e poi ci sono quelli che parlano che dicono allora l'ordine del giorno è questo dobbiamo decidere la vogliamo smettere questa guerra contro sparta anche se quei bastardi degli spartani naturalmente meriterebbero di essere annientati ma non ci stiamo riuscendo costa un sacco di soldi questa guerra la vogliamo continuare poi arriva un altro certo che la vogliamo continuare gli equipaggi delle triremi pagati dallo stato hanno bisogno di lavorare quindi la continuiamo la guerra e annienteremo quei bastardi degli spartani sì no alla fine si vota tutti quelli che sono lì si mettono urlare a battere i piedi alzare le mani e si vede chi vince e uno torna a casa e non importa se è un vasaio un fabbro un contadino torna a casa e dice oggi abbiamo deciso che continuiamo la guerra contro sparta noi abbiamo deciso noi il popolo e all'assemblea ci va chi vuole certo bisogna fare in modo che ci vada tanta gente se si vuole che sia credibile la cosa a volte ci sono delle decisioni che non coinvolgono troppo e allora vabbè diciamo che ecco noi abbiamo nella nostra democrazia questa cosa che sappiamo tutti che è un po ridicola che votare un dovere e non soltanto un diritto dopodiché sappiamo tutti che un dovere che se non lo fai non succede niente non è un vero dovere anche ad atene non eri obbligato però però quando si rendono conto che uno dei rischi della democrazia è che la gente dica sì ma oggi ho altro da fare non vado e quando c'erano cose veramente importanti da decidere ad atene in piazza la polizia cominciava a portare in tanti portavano una corda una corda tinta di rosso di con vernice rossa che colava e in piazza c'è la folla no sul lagorà c'è la gente che chiacchia che passeggia c'è il mercato tutti uomini perché le donne stanno a casa naturalmente sono gli uomini ad atene che escono fuori e allora c'è questa corda rossa che spinge la gente verso la collina se uno si sottrae passa sotto e scappa gli rimane la macchia di vernice rossa sul vestito giorno dopo si va a vedere chi ha la macchia multa perché questo oggi bisognava proprio andarci all'assemblea ovviamente tutti un vestito solo è un mondo povero la democrazia ad atene vuol dire che i cittadini sono i padroni e che arrestare un cittadino è una cosa seria certo se c'è un'accusa esiste una polizia certo esiste una polizia e la polizia è fatta di schiavi di schiavi forestieri tipicamente sciti che vengono dalle regioni lontane del mar nero nelle commedie di aristofane spesso c'è il personaggio del poliziotto l'arciere dicono l'arciere scita che si distingue perché parla malissimo il greco e quindi lo parla alla belle meglio con un gergo da straniero da immigrato appena arrivato è un grande problema per i traduttori delle commedie di aristofane tradurre questi poliziotti che parlano in questo gergo uno dei grandi traduttori di una volta benedetto marzullo i poliziotti sciti di aristofane li faceva parlare in siciliano ma lui era siciliano quindi se lo poteva permettere perché sono schiavi e perché il cittadino non deve aver paura del poliziotto è il poliziotto che deve aver paura del cittadino poliziotto deve fare quello che gli ordinano i cittadini e basta e se arresti un cittadino in tutto il mondo allora e anche dopo fino al fino al diciottesimo secolo fino a cesare beccaria in tutto il mondo quando si arrestava qualcuno con un'accusa e quello non voleva confessare lo torturavi un pochino per farlo ragionare fargli ricordare le cose ma in una democrazia greca no gli schiavi li puoi torturare quando sono accusati di qualcosa ma il cittadino no e poi la democrazia vuol dire che appunto qualcuno magari all'assemblea non ci va perché veramente oggi devo lavorare e la gente lavora c'ha la bottega e allora e allora la vera democrazia la vera democrazia è e lo fanno a un certo punto nel periodo più spinto della democrazia ateniese si dice vabbè il cittadino che perde la giornata per andare all'assemblea a votare lo stato gli paga la giornata di lavoro ha dovuto lasciare chiusa la bottega e quindi va andato a votare e quindi gli paghiamo la giornata e naturalmente la democrazia vuol dire che appunto si discute fra tutti fra tutta la gente che c'è chiunque a casaccio ha potuto andare lì e si discute con la pancia che l'assemblea ateniese prenda spessissimo delle decisioni che poi pensandoci bene risultano rovinose è ovvio lo sanno anche loro che capita continuamente perché l'assemblea è così risponde all'emotività del momento c'è un caso famosissimo verso la fine della guerra del peloponneso la grande guerra contro sparta che alla fine atene perderà e che sarà come dire un momento di passaggio drammatico di decadenza drammatica per atene verso la fine di questa guerra la flotta ateniese a sorpresa vince una grande battaglia navale contro gli spartani alle isole arginuse arriva la notizia che la flotta ha sconfitto gli spartani la flotta spartana è distrutta e quindi grandi festeggiamenti poi arrivano notizie più dettagliate è tutto vero però però c'è stata anche una terribile tempesta durante la battaglia e i navarchi i comandanti della flotta quanti erano otto mi pare sì gli otto comandanti della flotta i quali naturalmente sono stati eletti e non sono mica militari di carriera bisogna mandare una flotta e l'assemblea dice chi mandiamo io proporrei di mandare lui ecco mandiamo lui sì d'accordo lui sì e poi tanti bisogna mandarne perché è una democrazia si discute si ragiona tutti insieme e arriva la notizia che appunto i navarchi gli ammiragli della flotta vittoriosa dato che c'era la tempesta e hanno dovuto rifugiarsi in porto il prima possibile e non hanno raccolto i naufraghi della loro stessa flotta tante navi erano colate a picco era pieno di naufraghi e poi era pieno di morti in una battaglia navale rimane pieno di gente che viene ammazzata finisce in mare sono lì i cadaveri che galleggiano non li hanno raccolti e sull'assemblea passa un vento gelido all'idea che non hanno raccolto i naufraghi che magari si potevano salvare ma in realtà ancora di più all'idea che non hanno raccolto i nostri morti che quindi sprofonderanno in mare e saranno mangiati dai pesci invece di avere una sepoltura religiosa come è diritto di ogni uomo e gli ammiragli li hanno lasciati lì e allora all'assemblea qualcuno dice condanniamo a morte gli ammiragli e li richiamano in patria due non tornano gli altri sei tornano e vengono processati davanti all'assemblea e spiegano cos'è il primo giorno spiegano capite la situazione fanno dei grandi discorsi davanti all'assemblea che sembra sul momento abbastanza convinta tutto sommato poi il processo viene sospeso perché c'è una festa religiosa i greci sono immersi in una vita religiosa costante hanno un rapporto continuo con un'infinità di dei e hanno un'infinità di momenti festivi è una grande festa che si chiama le appaturie durante la quale l'abitudine è di fare delle grandi riunioni di famiglia e gli ateniesi fanno queste riunioni di famiglia e mancano i morti mancano quelli che sono morti nella battaglia navale e poi alla fine delle feste tornano all'assemblea coi sei navarchi che si sono presentati e il clima è cambiato i nostri morti sono rimasti là li avete lasciati voi là vengono tutti condannati a morte funziona così e anche i tribunali funzionano così cosa c'è di più importante di un processo specialmente anche un processo penale non solo un processo così per ragioni economiche ma un processo penale in cui c'è una persona accusata di qualcosa di grave che rischia la condanna a morte e in una democrazia chi è che decide il popolo lo decide figurati se affidiamo una cosa più importante come avviene in altre civiltà compresa la nostra a degli specialisti a dei magistrati a gente che ha studiato legge ma nemmeno per idea una cosa così più importante in una democrazia la fa il popolo e quindi un processo come si fa a seconda della gravità del processo si tirano a sorte ci si può iscrivere chi ha voglia di fare il giurato nei processi si iscrive a una lista è una lunghissima lista e da lì estraia sorte se è un processo a seconda dell'importanza ma neanche dell'importanza il processo socrate era importante eppure lì la giuria era ristretta 501 cittadini ma si può arrivare fino a 1501 ovviamente sempre dispari perché non devono essere 50 50 bisogna sempre che si veda qual è la maggioranza ecco il processo a socrate viene deciso non da dei magistrati non da dei giuristi ma da 501 cittadini qualunque l'unica cosa per cui non sono qualunque e che sono quelle a cui piace fare il giurato perché sono andati a iscriversi nella lista e ci sono quelle a cui piace fare il giurato è anche lì quelli che criticano all'epoca la democrazia ci vanno a nozze con queste cose c'è una commedia di aristofane che appunto i difetti della democrazia aristofane nelle sue commedie li vedeva bene le vespe le vespe sono i vecchietti che non hanno niente da fare sono in pensione e sono iscritti alla lista dei giurati e quando li sorteggiano sono contentissimi un bel processo si passa lì la giornata insieme agli amici e poi si decide a morte quello lì capite che senso da un lato che senso di appartenenza di partecipazione noi noi decidiamo davvero non è che abbiamo votato qualcuno e poi lui decide laggiù lontano noi decidiamo poi naturalmente l'assemblea condanna a morte socrate che uno dice ma magari non è stata proprio la decisione più saggia degli ateniesi però però la brava gente cosa diceva cosa sapeva la brava gente di socrate dicono che è un ateo dicono che non crede agli dèi dicono che insegna ai ragazzi che ragionando e parlando bene si può dimostrare una cosa e si può anche dimostrare il contrario la verità non esiste non ci sono gli dèi non c'è la verità ma questo socrate lo vogliamo fra noi no che non lo vogliamo a morte questa è la democrazia quindi naturalmente molti di quelli che riflettono fra i greci dicono ma questa roba fa schifo è un sistema tremendo oppure è un sistema affascinante certo però vi rendete conto dei difetti platone platone dice la democrazia è una forma di governo affascinante piena di varietà e di disordine effettivamente c'è un sacco di cose di notizie tutti i giorni quando c'è il tiranno notizia del suo palazzo ne escono poche e quando c'è l'oligarchia anche lì è nelle case dei ricchi che si discute invece qua si discute in piazza sulla collina davanti a tutti è un regime affascinante dice platone che dispensa una specie di eguaglianza a tutti agli uguali ai disuguali perché il problema è che io non ci credo che sono tutti uguali gli uomini dice platone e i nemici della democrazia che sono tanti e scrivono noi abbiamo i loro testi c'è un testo attribuito per tradizione a senofonte lo storico ma in realtà non è suo è di qualcun altro siamo sempre in quell'epoca comunque fine quinto inizio quarto secolo il momento di ultimo grande splendore della civiltà ateniese in questo testo che si chiama la costituzione degli ateniesi e l'autore è uno che descrive la democrazia ateniese apparentemente con freddezza e questo funziona così in realtà si capisce benissimo che l'autore considera la democrazia una porcheria una schifezza perché quelli che prendono le decisioni sono degli ignoranti sono degli analfabeti molti casi sono dei cialtroni che conoscono il loro lavoro la loro bottega i loro attrezzi di lavoro e noi gli facciamo decidere la grande politica le leggi la pace la guerra poi l'autore di questa costituzione degli ateniesi non sappiamo chi è gli studiosi lo chiamano il vecchio oligarca il vecchio oligarca dice ma non vedete non vedete il popolo è talmente facile corromperlo è così facile sono venali non hanno scrupoli coi soldi ti compri i voti e poi e poi in questo sistema tutti parlano tutti credono di aver diritto di parlare va a finire che perfino dice perfino gli immigrati i greci li chiamavano i meteci sapete che è una bellissima parola è molto più bella di immigrati meteci vuol dire quelli che vivono con noi quelli che abitano con noi nella stessa casa però perfino loro perfino gli schiavi dice l'autore in questa città da quando c'era democrazia perfino gli schiavi credono di poter aver diritto di parola mentre mentre il popolo è fatto di bestie il popolo è fatto di ignoranti analfabeti che in una città governata bene non dovrebbero azzardarsi ad aprire bocca anzi l'ideale sarebbe che la massa della gente fossero schiavi tanto quello che sanno fare e lavorare nient'altro questa è la posizione degli oligarchi dei migliori i quali dicono appunto ma che senso ha che le decisioni lo prende il mio portinaio e appunto l'artigiano della sua bottega il poveraccio che vende il pesce al mercato e loro votano così come vota il nobile signore il quale il quale si intende di tutto perché ha tanto tempo libero e studia e conosce la musica e l'arte e va in palestra sapete che per i greci il corpo fondamentale no essere belli ed essere buoni ma chi è che è bello e buono perché va in palestra tutti i giorni i ricchi mica la gente comune ecco e noi noi che andiamo in palestra e andiamo a teatro no tanto ci vanno tutti veramente ma noi conosciamo appunto l'arte andiamo alle olimpiadi quello sì i campioni delle olimpiadi sono ricchi sono gran signori che hanno il tempo di allenarsi e noi che siamo il meglio e poi il mio voto vale quanto quello del pesci vendolo ecco questo sono gli argomenti degli avversari e è chiaro che la situazione è conflittuale cioè il popolo vuole continuare così e ha orrore dell'idea che i pochi prendano il potere e lo escludano e i pochi pur vivendo in una città democratica trovano che la situazione è scandalosa e tramano nell'ombra per fare un giorno il colpo di stato e abbatterla questa democrazia aristotele lo dice molto chiaramente nella società nostra c'è la lotta permanente stasis dice lui e la lotta è fra i nobili e ricchi e la massa dei poveri e in democrazia i ricchi saranno sempre scontenti e in oligarchia i poveri saranno sempre scontenti e il risultato è che poi quelli che se la godono questa è una cosa che tutti gli avversari della democrazia poi tirano fuori e su questo hanno ragione voi credete che sia il popolo che comanda che decide ma non vedete che un politico abile che sa parlare bene che sa toccare i tasti giusti che sa come si fa per manipolare l'assemblea per farla ridere per farla piangere per eccitare emozionare la gente un politico abile se la porta dove vuole l'assemblea e quelli sono i demagoghi quelli che conducono il demos il demos crede di comandare e invece si fa tirare dove vuole da una parte e dall'altra da questi cialtroni corrotti che però sanno come si gestisce un'assemblea e dunque e dunque la democrazia ad Atene non è mai uno stato stabile ma dove c'è è un modello di governo perennemente minacciato perennemente preoccupato che c'è chi trama nell'ombra ci sono le conventicole le società segrete gli incontri a casa dei ricchi e naturalmente le città nemiche sparta in particolare dove invece la democrazia non c'è e gli spartani in tutte le città democratiche cercano di sobillare di rovesciare la democrazia e imporre dei regimi invece autoritari come il loro in ogni caso il dialogo è appunto fra la tirannide l'oligarchia la democrazia c'è un unico modello che i greci non prevedono anche se sanno che c'è ma è una cosa da barbari il re sacro il sovrano assoluto messo lì per volontà di dio o degli dei che quindi è una persona diversa dal resto della gente che gode di una sacralità per cui ha tutto il potere questa cosa esiste certo i persiani ce l'hanno e tutto l'orgoglio dei greci e in questo sono d'accordo gli ateniesi e gli spartani i democratici e gli aristocratici sono tutti d'accordo noi non siamo barbari per inchinarci davanti al gran re tutti i popoli soggetti all'impero persiano lo fanno i loro inviati si presentano dal gran re e si inginocchiano e picchiano la testa per terra in segno di sottomissione ma noi i greci questo non lo facciamo perché noi siamo nati liberi traduzione ad atene tutti noi siamo liberi traduzione a sparta noi i pochi i migliori siamo nati liberi e il re sacro è una roba cui possono credere solo i barbari dopodiché dopodiché il mondo greco come sapete dura per secoli e poi a un certo punto viene progressivamente assoggettato hanno resistito ai persiani certo già i macedoni di alessandro magno non resistono mica più tanto e ancor meno resistono ai romani l'unità del mondo mediterraneo alla fine non la fanno i greci che pure sono dappertutto ma la fanno i romani e i romani sono anche loro una polis all'inizio sono anche loro una città come se fosse una città greca avete presente quando studiavamo a scuola mario e silla e poi cesare pompeo i democratici e gli oligarchi gli aristocratici certo anche roma esattamente come se fosse una città greca finché era una repubblica ha visto lo scontro fra chi avrebbe voluto una democrazia e chi invece voleva il governo dei migliori poi in realtà a roma hanno praticamente sempre vinto quelli che volevano il governo dei migliori il senato i tre o quattrocento uomini più ricchi della città e quindi del mondo e loro comandano ci sono anche dei momenti in cui vince un democratico è cesare è il leader del partito democratico e vince la guerra civile risultato aristotele lo avrebbe predetto con la massima tranquillità si comincia con la democrazia e si arriva al dispotismo e cesare fa precisamente quello io ho preso il po ho vinto la guerra civile a nome della democrazia e del popolo e il popolo mi vuole il popolo vuole che io comandi dopodiché appunto l'impero romano nasce come uno sviluppo di una polis dove si è discusso fra democrazia aristocrazia e dove in teoria addirittura ha vinto la democrazia a un certo punto decidendo però di dare tutto il potere a un uomo solo che però va d'accordo con i pochi perché l'imperatore e il senato comunque governano di comune accordo e per un po' si regge questo equilibrio ma poi nei suoi ultimi secoli l'impero romano diventa un'altra cosa l'impero romano diventa quello che era stato l'impero persiano cioè un impero dominato da un imperatore sacro non più un primus inter pares non più il leader del partito democratico che comanda perché il popolo lo vuole ma uno che comanda perché l'ha messo lì dio al singolare questa cosa che è già nell'aria si concretizza definitivamente quando l'imperatore diventa cristiano a partire da costantino inizio del quarto secolo non sono finite le chiacchiere sul fatto della democrazia del rappresentare il popolo nemmeno per idea l'imperatore che è uno sulla terra come c'è un solo dio in cielo l'imperatore cristiano sa e fa sapere a tutti che lui governa per diritto divino è dio che mi ha scelto e che mi ha messo qui e così e così diciamo all'inizio del quarto secolo il sistema antico è proprio finito per molti secoli nessuno discuterà più spariscono anche le parole democrazia oligarchia niente c'è la monarchia divina c'è un sovrano scelto da dio che ha tutta la responsabilità che può fare tutto quello che vuole perché lui è responsabile nei confronti di dio questo con l'impero romano e anche con i regni romano barbarici che seguono quando nell'anno 643 rotari re dei longobardi fa mettere per iscritto le leggi dei longobardi e alle leggi tradizionali aggiunge qualche cosa che interessa a lui anzi proprio all'inizio le mette per definire il potere del re e le leggi dei longobardi prevedono che se io ammazzo qualcuno la famiglia di quello lì ha diritto di vendicarsi e ha proprio il diritto è per legge ma il re rotari dice se invece qualcuno viene ammazzato per ordine del re nessuno ha diritto di vendicarsi o di chiedere un risarcimento perché i cuori dei re sono nelle mani di dio che è una citazione della bibbia dei salmi i cuori dei re sono nelle mani di dio il re risponde a dio e non agli uomini e questo è ciò che la gente si sente dire i nostri antenati vessuti in europa si sono sentiti dire per secoli e secoli e secoli fino alla metà del medioevo fin dopo l'anno mille il sovrano è sacro e bisogna ubbidirgli perché così vuole dio quando è che si comincia a non dire più questa cosa o meglio no questa cosa i re continueranno a dirlo per sempre contro tutto e contro tutti a tutti i costi i re continueranno a dire no è dio che mi ha messo qui fino alla farsa dell'unità d'italia che di per sé non è una farsa è la farsa è quello che sto per dire e cioè che quando si fa l'unità d'italia e il re è vittorio emanuele secondo già re di sardegna il quale viene proclamato re d'italia e perché re d'italia con quale formula in base a cosa il re vittorio emanuele secondo siamo nel 1861 e non nel nono secolo il re dice e beh per grazia di dio e il governo gli dice no veramente per volontà della nazione siamo noi che ti abbiamo scelto che ti abbiamo messo no no è dio il vittorio emanuele lo sapete tiene duro anche se alla fine accetta il compromesso lo accettano tutti vittorio emanuele secondo è stato proclamato re d'italia per grazia di dio e volontà della nazione nell'italia entusiasta del risorgimento si poteva anche dire sì ma la volontà di dio fuori degli italiani non è mai la stessa cosa no ecco quindi quindi i re hanno sempre continuato a dirlo ma la cosa importante è che a partire da un certo momento qualcuno comincia a dare un'altra versione e questo qualcuno è il papa quando il papa nel corso del medioeva a un certo punto comincia a litigare con l'imperatore e a pensare che dopo tutto è lui lui sì che è stato messo lì da dio il papa avete presente quelle cose che studiavamo a scuola la lotta per le investiture gregorio settimo enrico quarto ecco chi è più importante il papa o l'imperatore l'imperatore poveretto dice ma veramente finora risultava che ero io il più importante mi ha messo lì dio e da sempre così papa gregorio settimo seconda metà dell'undicesimo secolo in una lettera a un vescovo il vescovo ermanno di metz dice dice due cose primo ma non vorremmo metterci a discutere se sia più importante l'impero la chiesa la chiesa romana l'impero che l'hanno fondato i pagani i romani che non sapevano neanche che c'è dio mentre la chiesa romana l'ha fondata lui in persona quando ha detto tu sei pietro e su questa pietra fonderò la mia chiesa e io il papa sono il successore dell'apostolo a me sì che mi ha messo qua dio e questa è la prima cosa e la seconda cosa è ma allora i re e gli imperatori dove saltano fuori e dice il papa sono quelli che hanno rubato più degli altri sono quelli a cui il diavolo ha ficcato in testa di comandare sui loro pari perché gli uomini sono tutti uguali sono nati tutti uguali e il diavolo invece ha ficcato in testa qualche violento di imporsi sugli altri e i violenti rubano uccidono spergiurano commettono tutti i crimini del mondo e poi alla fine si mettono in testa una corona da lì dice il papa è venuto fuori l'imperatore come vedete diciamo una teoria lievemente diversa rispetto a quella in vigore fino a quel momento gli imperatori continuano a dire no no non è vero è dio che ci mette qua ma una volta che hai cominciato a dire queste cose è finita non è più possibile essere sicuri che la gente ci crede all'investitura divina e questi discorsi per cui certo l'imperatore c'è comanda fa la guerra giudica con ma chi gli ha dato il diritto la versione estrema è quella del papa il diavolo che l'ha spinto ma nel corso del medioevo ragionando su questo si comincia a vedere le cose con un'altra in un'altra prospettiva e così si ci riavviciniamo di nuovo un po al nostro discorso della democrazia anche se non sembra perché l'altra posizione che viene fuori nel medioevo meno estrema appunto di quella di gregorio l'altra posizione che viene fuori è beh sapete lo racconta un grande romanzo medievale il romando la rosa è un grande best seller francese del tredicesimo secolo è un lunghissimo romanzo dove la trama di fondo è la storia di uno che vuole cogliere la rosa e cioè uno che ha un'innamorata e vuole arrivare dove vuole arrivare naturalmente e questa è la trama di fondo ma il romanzo è pieno di digressioni dove si parla di tutto a loro piacevano queste cose oggi ci sembrerebbe illegibile il romano della rosa 20.000 versi all'epoca era un best seller tradotto in tutte le lingue e tradotto anche in italiano e qualcuno sostiene che è stato dante l'autore di questa raccolta di sonetti il fiore che è una traduzione appunto del romano della rosa l'han letto tutti e il romano della rosa tra mille cose che racconta racconta anche come mai ci sono i re e i re una volta non c'erano mica ai tempi ai bei tempi dell'età dell'oro l'età dell'oro è un mito antico un mito greco ma anche i cristiani del medioevo lo conoscono ai bei tempi dell'età dell'oro gli uomini erano tutti uguali appunto non esisteva la proprietà privata non c'era violenza non c'era bisogno di difendersi da nessuno si viveva meravigliosamente nell'età dell'oro poi è arrivato il primo cretino che ha costruito uno steccato intorno a casa sua e ha detto guai a chi passa questo steccato e uno è passato quello gli ha dato una botta in testa e l'ha ammazzato e allora e allora gli uomini si sono resi conto che era finita l'epoca in cui si viveva tutti uguali e non c'era bisogno di un'autorità gli uomini si sono resi conto che ci vuole ci vuole a questo punto qualcuno che comanda e mantiene la pace e si sono messi tutti d'accordo e hanno scelto il villanaccio più grande grosso e brutale che ci fosse gli hanno messo una mazza in mano e gli hanno detto tu fai il re vai in giro con la mazza e picchia in testa quelli che non si comportano bene non rispettano le regole ed è così che è nato il re per scelta del popolo che si è reso conto che purtroppo anche se sarebbe tanto bello farne a meno uno che comanda ci vuole e quello che comanda non è il più buono il più bello il più bravo e meno che mai l'ha scelto dio deve essere uno molto cattivo che sappia farsi rispettare purtroppo per i nostri peccati siamo ridotti a questo ecco questa è la versione della nascita della nascita della monarchia secondo il romano della rose e intanto la chiesa continua la sua riflessione e diciamo la prospettiva estrema di gregorio settimo è un po estrema effettivamente la chiesa si rende conto non puoi distruggere il rispetto per l'autorità il rispetto per l'autorità ci deve essere la gente deve ubbidire all'imperatore ai re principi sì però mettiamo le cose in chiaro quelli li governano in quanto è la chiesa che li autorizza a governare dio ha creato la chiesa in particolare la chiesa di roma dove c'è il papa successore di san pietro quello che tiene le chiavi del paradiso non si entra se lui non ti lascia entrare quella l'ha creata dio per governare il mondo poi la chiesa siccome diciamo queste cose ripugnanti tipo impiccare i malfattori o cose del genere non le vogliamo fare noi personalmente ci siamo scelti qualcuno che lo fa e i sovrani va bene che possono governare comandare giudicare purché ammettano che quel potere gliel'ha dato sì dio certo ma non direttamente a loro dio l'ha dato la chiesa e la chiesa ha scelto i sovrani a questo patto possiamo andare d'accordo e se no e se no i teologi del medioevo ragionano tommaso d'aquino ci ragiona su dice allora un sovrano giusto che fa il bene del suo popolo perché quello è l'incarico che gli è stato dato e che riconosce di ricevere dal papa la sua autorità e ha sempre dio in mente e soprattutto appunto è un sovrano giusto che fa regnare la giustizia fra i sudditi e allora quello bisogna ubbidire se invece è un sovrano ingiusto se è un sovrano che si è dimenticato del mandato che dio gli ha dato ecco che riscoprono una vecchia parola che non si sentiva più da tanto tempo però loro i libri antichi li hanno e sempre più stanno tornando a leggerli tirano il tiranno ecco ecco chi è il tiranno e in questo momento che la parola che per i greci era neutrale assume invece quel significato negativo per i teologi del medioevo il tiranno è uno che a guardarlo sembra un sovrano come tutti gli altri è stato incoronato c'ha la corona lo scettro il trono comanda la gente gli ubbidisce ma è un sovrano ingiusto e dio non lo autorizza e allora se uno è un tiranno qui tommaso d'aquino che è uno che ama andare a fondo alle cose quando ci ragiona allora la gente deve ubbidire ai sovrani certo ma deve ubbidire anche ai tiranni no dice tommaso d'aquino no al sovrano ingiusto non si deve ubbidire i sudditi non sono tenuti a ubbidire e allora il sovrano ingiusto può essere deposto certo certo che può essere deposto dai sudditi il sovrano ingiusto e se il sovrano resiste si passa alla violenza è lecito ai sudditi che vogliono rimuovere un sovrano ingiusto è lecito ucciderlo sì dice tommaso d'aquino siamo logici siamo logici certo il sovrano ingiusto che si rifiuta di lasciarsi deporre i sudditi hanno il diritto di ucciderlo capite fin dove può arrivare come dire il ragionamento dei chierici medievali su come funziona il mondo e quali sono le regole che vanno rispettate di democrazia in quel momento non parla ancora nessuno da noi la parola non l'hanno ancora riscoperta certo ci sarebbero i comuni italiani che effettivamente sono delle realtà dove dove la gente partecipa dove gli abitanti maschi certo che hanno qualcosa certo che possono pagare delle contribuzioni voglio dire l'artigiano che ha la bottega è un cittadino certo il suo garzone che dorme sul pavimento della bottega e prende un soldo al giorno di stipendio e non ha neanche gli stracci per coprirsi quello non è proprio un cittadino dire la verità però comunque anche in questa accezione in un comune italiano molte migliaia di persone partecipano al governo loro non la chiamano democrazia ma per esempio i cronisti bizantini del medioevo quelli dell'impero d'oriente che parlano greco i cronisti bizantini del basso medioevo quando devono dire i comuni italiani dicono democraziai le democrazie italiane loro la parola la conoscono e per loro è ovvio che il comune è una democrazia poi anche questa fase si va restringendo i comuni italiani e coloro non dicevano democrazia però anche loro avevano un termine per dire non comandano in pochi comandiamo tutti è un comune di popolo è un regime di popolo qui comanda il popolo e la grande epoca dei comuni di popolo è breve però perché poi c'è un'involuzione un po dappertutto alla fine ci sono scontri violentissimi e alla fine alla fine un po dappertutto vengono fuori i signori vengono fuori i visconti i medici no quelli che ecco nelle città che continuano a reggersi a popolo a questo punto è ovvio vista da firenze che è ancora un comune di popolo nel 300 nel 400 a milano i visconti tiranni gli scaligeri a verona tiranni l'italia si sta riempiendo di tiranni e poi i tiranni vincono vincono dappertutto nel 500 vincono anche a firenze arrivano i medici e si fa proclamare cosimo granduca di toscana dall'imperatore ed è finita l'esperienza del governo come dicevano anche nel medioevo del governo largo a cui tanti partecipano l'età moderna 500 600 700 è un'epoca sotto il segno del potere assoluto dei sovrani assoluti oppure dove sopravvive una repubblica però comandano in pochi avete presente venezia ci sono i patrizi e c'è il consiglio dei dieci e il popolo sta zitto e in quel contesto intanto stanno riscoprendo sempre di più anche la letteratura greca la lingua greca siamo nel rinascimento dalla fine del rinascimento ormai leggono tutto ritrovano le parole ritrovano questa parola democrazia la parola democrazia comincia a essere usata in lingua italiana chi la usa gli studiosi di platone e di aristotele quando commedia dicono eh platone dice questa cosa loro avevano questa cosa la chiamavano democrazia e poi alla fine del 500 c'è uno scrittore si chiama Tommaso Garzoni che per la prima volta in lingua italiana usa la parola democrazia non dicendo è una parola strana che si trova in aristotele ma come un concetto che conosciamo che vale la pena di conoscere e di spiegare cosa vuol dire e dice Tommaso Garzoni cos'è la democrazia quando la molti fine 500 è quando ovunque comandano principi o al limite ristrettissime oligarchie quando la moltitudine ingiustamente oppressa tratta dall'ira e spinta da furore decide di vendicare gli oltraggi ricevuti subito ne nasce la democrazia cioè l'amministrazione del popolo vedete quanti livelli la moltitudine ingiustamente oppressa San Tommaso chi governa deve governare con giustizia comunque il popolo ha diritto a essere trattato con giustizia purtroppo purtroppo quando il popolo non è trattato con ingiustizia succedono brutte cose nasce la democrazia perché c'è la democrazia tratta dall'ira e spinta dal furore la democrazia c'è quando la gente non capisce più niente per la rabbia per l'ingiustizia e allora si ribella con la violenza quella è la democrazia è una cosa desiderabile ma nemmeno per idea la cosa desiderabile è che i principi siano giusti che trattino il loro popolo con giustizia e allora la gente non avrà bisogno di ribellarsi questa idea che la democrazia è una cosa che ha a che fare con la violenza ce l'avevano un po anche gli antichi greci e ve l'ho detto all'inizio non viene da archein che vuol dire governare viene da kratein che vuol dire imporsi ecco questa idea che il popolo quando comanda lui c'è sempre una certa violenza ecco ce l'avevano anche i greci e ce l'hanno tutti i nostri pensatori del rinascimento e dell'età moderna e la nostra età moderna diventa epoca contemporanea come sapete attraverso alcune grandi rivoluzioni che rimettono in discussione la anarchia assoluta e la rimettono in discussione in termini medievali in realtà e cioè il sovrano deve governare con giustizia il suo popolo nell'interesse del popolo e se non lo fa la prima grande rivoluzione quella inglese del 600 gli anni 40 del 1600 in inghilterra si sono abituati da secoli al fatto che il re governa con giustizia in quanto consulta continuamente i rappresentanti del paese c'è il parlamento non è la democrazia i rappresentanti del paese sono i nobili lord sono i vescovi e gli arcivescovi sono i deputati eletti dalla piccola aristocrazia di campagna la gentry come dicono loro tutti quelli che contano qualcosa in inghilterra mandano qualcuno in parlamento a rappresentarli la massa della povera gente no naturalmente ma il paese sono le persone che contano qualcosa e quando in inghilterra il re carlo primo decide che per un vero re abbassarsi a consultare continuamente un parlamento a dover sentire il parere dei nobili dei preti dei mercanti dei ricchi del paese prima di decidere qualcosa è una cosa indegna di un vero re e quindi il re carlo primo decide di non di non convocarlo più il parlamento e se vuole mettere una nuova tassa la metto senza chiedere il permesso a nessuno e scioglie il parlamento il parlamento si rifiuta di sciogliersi dicendo noi siamo il paese e tu sei il re per fare il bene del paese trattarlo con giustizia in questo regno di inghilterra la giustizia vuol dire che il re come si è sempre fatto deve governare col consiglio del parlamento se tu ti rifiuti di farlo ti faremo la guerra fino a quando non cambi idea e il re ha ruolo a soldati e il parlamento ha ruolo a soldati e scoppia una guerra civile che dura parecchi anni e il parlamento vince la guerra civile e il re viene giudicato per alto tradimento perché la sua pretesa di dire non siete voi è dio che mi ha dato il potere non voi e quindi io rispondo solo a dio non rispondo a voi questo significa aver tradito il suo paese e gli tagliano la testa come sapete poi c'è la rivoluzione americana e la rivoluzione americana è fatta da dei bravi gentiluomini i quali si riuniscono e dicono tutti gli uomini sono uguali è una verità evidente tutti gli uomini hanno diritto alla libertà alla ricerca della felicità tutti naturalmente molti di loro sono gentiluomini della virginia che a casa hanno centinaia di schiavi neri ma questo in qualche modo non per il momento in quella generazione lì non fa ancora troppi problemi tutti gli uomini sono uguali e siccome il re invece pretende anche lui di farci pagare delle tasse senza il nostro permesso e in inghilterra c'è il parlamento ma noi coloni dell'america non ce li abbiamo i deputati nel parlamento e quindi e quindi il governo del re è ingiusto e noi ci ribelliamo e si ribellano loro sono troppo lontani per tagliare acchiappare il re in inghilterra e tagliargli la testa ma l'america diventa indipendente è una democrazia no perché nella testa di tutta la gente democrazia vuole ancora dire il popolino i poveracci gli analfabeti perfino loro vogliono pretendere di contare qualcosa e quando si mettono in testa queste cose ira e furore appunto guai sono i migliori che devono governare vale anche in america è dove una parte dei fondatori degli stati uniti pensano che la democrazia sia una cosa da evitare citazione di john adams secondo presidente degli stati uniti la democrazia finché dura è più sanguinaria dell'aristocrazia e della monarchia ricordatevi la democrazia non dura mai a lungo si corrompe si esaurisce e si suicida non c'è mai stata una democrazia che non si sia suicidata quindi secondo il secondo presidente degli stati uniti questa roba che abbiamo noi qui non è assolutamente una democrazia meno male è un'oligarchia sì è un'aristocrazia certo le persone che valgono qualcosa in tanti comandano in america nascerà però anche un partito democratico che invece dice no 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 questa che vogliamo costruire deve essere un paese dove tutti contano anche l'ultimo dei coloni vota e questa deve essere la democrazia ed è questo che si affermerà nel corso dell'ottocento gli stati uniti diventano la prima democrazia della storia moderna nel senso del primo paese dove tutti i maschi adulti votano per eleggere il governatore del loro stato il parlamento del loro stato i loro senatori e deputati a washington e il presidente della repubblica e quindi gli stati uniti sono la prima realizzazione concreta della democrazia nel mondo moderno è il primo paese che è costretto a cominciare a esplorare anche gli altri i tanti problemini che nascono perché sembra così bello di la democrazia certo quella però non è più la democrazia rappresentativa degli ateniesi noi eleggiamo dei senatori dei deputati eleggiamo un presidente e al presidente per quattro anni diamo un sacco di potere cosa succede in una democrazia se la gente dopo le elezioni si pente e non vuole fare quello che comandano gli eletti cosa si deve fare si scende in piazza si manifesta si protesta sì certo però 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 si può in democrazia dire io quello che hanno deciso i rappresentanti eletti io non sono d'accordo e quindi non lo faccio non ubbidisco perché siamo in democrazia sapete che gli stati uniti a metà dell'ottocento vanno incontro a una crisi spaventosa perché a fare questo ragionamento non sono i singoli i singoli gli schiacci ma sono interi stati stati uniti sono un insieme di stati di cui alcuni hanno la schiavitù e altri non ce l'hanno e fra quelli che hanno gli schiavi al sud e quelli che non li hanno al nord i rapporti diventano sempre peggiori e c'è odio disprezzo e paura reciproca crescente è un bel momento nelle elezioni del 1860 viene eletto un presidente che si chiama abramo lincoln il quale è percepito al sud come uno che se può cercherà di abolire la schiavitù lincoln fino a quel momento ha sempre giurato a me non importa no no assolutamente non è non mi interessa non è nel mio programma non è questo ma nel sud è largamente percepito come uno pericoloso e a quel punto dopo che la maggioranza degli stati uniti ha eletto lincoln però negli stati del sud lincoln non ha preso neanche un voto uno dopo l'altro gli stati del sud dicono noi siamo liberi siamo stati sovrani e indipendenti finché ci faceva comodo facevamo parte di questa unione adesso non ci interessa più ce ne andiamo di fronte a questo lincoln deve decidere cosa fare e lincoln decide questa cosa non può essere permessa per carità avrà avuto mille motivazioni ma quella teorica ufficiale è perché questo sarebbe la fine della democrazia la democrazia consiste nel fatto che è stato eletto un presidente e quando il presidente è eletto tutti devono accettare le sue decisioni nessuno ha il diritto di dirarsi come io non sono d'accordo me ne vado e lincoln combatte la guerra civile con una propaganda che insiste sul fatto che questo è questa è la guerra per la democrazia non per liberare gli schiavi quello verrà dopo si farà anche quello ma è per la democrazia e lincoln quando i suoi generali dopo due anni di guerra finalmente vincono una battaglia dopo averne perso una quantità impressionante e finalmente vincono una battaglia che è la svolta della guerra civile gettysburg e quel giorno convinto finalmente forse per la prima volta che dopo tutta questa guerra la vinciamo perché noi del nord siamo forti il triplo e abbiamo i nove decimi di tutte le industrie del paese e il triplo degli abitanti e tuttavia sono due anni che cerchiamo di sottomettere il sud e non ci siamo riusciti finora dopo la vittoria di gettysburg lincoln si azzarda a fare un grande proclama sul campo di battaglia e il discorso di gettysburg uno dei grandi discorsi della storia americana in cui dice noi noi stiamo combattendo per uno scopo che questa nazione sotto dio rinasca nella libertà e che il governo del popolo fatto dal popolo per il popolo non scompaia da questa terra questo vuol dire capite l'ideologia americana del destino manifesto noi esistiamo noi stati uniti esistiamo per mostrare la strada e la strada che in questo 1863 stiamo mostrando al mondo è il governo del popolo che è la democrazia la quale schiaccia chi si rifiuta di obbedire alle regole della democrazia e ai presidenti democraticamente eletti va da sé che quelli del sud erano tutti convinti di star combattendo per la democrazia perché la democrazia significa io a casa mia faccio quello che voglio come sapete negli stati uniti non è mica scomparso questo tipo di dilemma no la democrazia è obbedisco al presidente oppure io a casa mia faccio quello che voglio e mi tengo anche un cannone anticarro se voglio a casa mia e se voglio essere razzista sarò razzista chi me lo può impedire sono un uomo libero e vivo in un paese libero questa cosa non è finita e naturalmente un grosso problema è questo adesso finiamo ma quanto nella democrazia si abbia il diritto di opporsi a ciò che fa il governo ti puoi opporre manifestando in strada certo sembrerebbe il minimo oggi a volte la sensazione che qualcuno pensi che già quello sia già un po troppo che non no ecco però poi noi quando pensiamo storicamente alla presa della bastiglia alle cinque giornate di milano alle giornate del 2014 a kiev quando la piazza abbatte un presidente democraticamente eletto e tutte queste cose noi le acclamiamo trionfi della democrazia il problema come vedete è aperto e che il problema sia aperto lo si è visto sempre la democrazia a noi può sembrare che sia ovvio che la democrazia è un sistema forte fortissimo l'unico che ha senso nel mondo moderno tenete conto che siamo usciti da un novecento in cui la democrazia è stata sfidata da modelli il fascismo il nazismo lo stalinismo e le altre forme di socialismo reale in cui modelli che hanno avuto chi più chi meno però i loro momenti di grande successo di grande popolarità nell'italia degli anni 20 o 30 la democrazia l'abbiamo detto la volta scorsa era era una brutta parola era una roba vecchia e superata il futuro è un altro il futuro è il capo che comanda e il popolo che marcia ecco poi lì ha vinto la democrazia il che non impedisce che naturalmente per tutto il novecento nel mondo democratico si è riflettuto sui limiti della democrazia che li ha e si è anche scherzato tanti grandi intellettuali del novecento si sono divertiti sapendo che vivevano in democrazia e che erano a favore della democrazia però si sono divertiti a scherzarci su eh George Bernard Shaw grande scrittore inglese la democrazia è un sistema che ci garantisce che saremo governati come ci meritiamo Bertrand Russell grande filosofo la democrazia è la procedura con cui il popolo sceglie la persona a cui dare la colpa di tutto Charles Bukowski scrittore americano la differenza fra una democrazia e una dittatura è che in una democrazia prima voti e poi prendi ordini in una dittatura non devi perdere tempo a votare Winston Churchill il migliore argomento contro la democrazia è una chiacchierata di cinque minuti con l'elettore medio dopodiché però Winston Churchill ha anche detto la cosa credo più saggia in assoluto che si possa dire sulla democrazia nostra moderna e cioè la democrazia è la peggior forma di governo tranne tutte le altre che sono state provate grazie per aver ascoltato i podcast di intesa san paolo on air al prossimo episodio